4 kg di cocaina sequestrati tra Padova e provincia dalla squadra mobile di Padova, i carabinieri di Piazzola sul Brenta, è il risultato di due distinte operazioni di contrasto allo spaccio di droga nel Padovano. Gli agenti della mobile hanno arrestato due fratelli albanesi, incensurati, regolari e nulla facenti, e sequestrato l'appartamento di uno dei due, un vero e proprio centro di confezionamento della droga, con tanto di sacchetti e parecchie opere sottovuoto, pressa per compattare e triplicare lo stupefacente. Nell'appartamento laboratorio, in via Dottesio, sono infatti stati trovati 2 kg di cocaina, un etto di hashish e 2.000 euro in contanti. La droga, che arrivava dall'Albania, dove i due avevano importanti contatti, veniva trasportata in Italia anche da corrieri italiani. Cocaina è anche destinata alle piazze padovane, sicuramente avvalendosi di corrieri, riteniamo questa volta anche di origine italiana, che però per l'ingente quantitativo rinvenuto fa pensare anche a un approvvigionamento a più vasto raggio. Sempre in città i carabinieri di Piazzola sul Brenta, nel corso di un'altra indagine, hanno scoperto un'organizzazione di cosiddetti ingoiatori che trasportavano ovuli di cocaina dalla Nigeria all'Oreggia, dove li consegnavano ad un cittadino nigeriano in attesa di regolarizzazione per cure mediche. L'uomo in dialisi, ogni pomeriggio all'ospedale di Campo San Piero, finite le cure giornaliere, si dedicava fino a notte allo spaccio dello stupefacente. I carabinieri sono arrivati a lui tramite 4 ingoiatori nigeriani, fermati con 2 kg di droga. Nella casa di Loreggia dell'uomo sono stati trovati altri 800 g di coca, un bilancino di precisione e 10.000 euro in denaro. Tra gli arrestati c'è un cassa integrato della Carraro e un marocchino in attesa di regolarizzarsi come badante. Nessuno di loro ha precedenti specifici. La droga veniva ricevuta dall'ultimo soggetto, il ricettore finale, così lo chiamiamo. Veniva tagliata perché quella sequestrata in ovuli era sicuramente pura, purissima. Veniva tagliata e poi consegnata a cittadini stranieri, soprattutto ex comunitari del tunisino marocchini, che a loro volta sicuramente consegnavano e vendevano a soggetti italiani e non del luogo. Grazie a tutti.